Ciao ragazzi, molti di voi mi chiedono come poter modificare la loro alimentazione o la loro dieta per avere addominali scolpiti, anche perché ormai la prova costume si sta avvicinando. All'avvicinarsi dell'estate molto spesso mi viene fatta questa domanda e quindi io spesso rispondo che gli addominali si fanno a tavola. Certamente l'allenamento è estremamente importante, ma dall'altra parte non serve massacrarsi di addominali per cercare di avere la nostra tartaruga esposta. Gli addominali vanno allenati e li alleniamo ogni giorno nelle nostre attività quotidiane, perché vengono sollecitati da qualsiasi attività che noi facciamo anche mentre deambuliamo normalmente. Dall'altra parte è certamente fare degli esercizi specifici, quindi come i crunch, piuttosto che gli allenamenti basati sul core, ma anche degli allenamenti basati sull'ipertrofia ci possono aiutare a rafforzare e a sviluppare il nostro muscolo addominale e non solo. Certamente però come tutti gli altri muscoli vanno allenati e poi vanno fatti riposare, se vogliamo che appunto la sindrome della supercompensazione poi faccia il suo corso e possa migliorare la situazione. Quindi assolutamente usiamo gli attrezzi che troviamo nelle palestre, nella palestra all'aperto come questo, facciamo gli addominali, diamogli il giusto recupero, ma ricordiamoci che gli addominali si fanno a tavola. Per avere gli addominali visibili, ognuno di noi ha la propria conformazione e questo ci deve far pensare, ci dobbiamo ricordare che non è detto che anche avendo la giusta composizione corporea e sicuramente avendo allenato gli addominali per forza dobbiamo avere la tartaruga bene in evidenza, ognuno di noi è fatto alla sua maniera, ma sicuramente la prima cosa che dobbiamo cercare di fare è ridurre lo strato adiposo che è sopra il nostro muscolo dell'addome, quindi dobbiamo fare del nostro meglio a tavola. Una delle prime cose che dobbiamo tenere in considerazione, che insegno nel mio libro l'indice di equilibrio, è quello di mantenere la glicemia stabile. Ricordiamoci che oggi la nostra popolazione è a mela e se è a mela è colpa di questi aumenti repentini di zucchero nel sangue della nostra glicemia e aumenti stimoli di insulina, quindi se noi riuscissimo a tenere sotto controllo la nostra glicemia utilizzeremo i grassi a scopo energetico e soprattutto quei grassi che tendenzialmente l'insulina ci porterà nello strato adiposo della pancia. Quindi regolando la glicemia ad esempio non mangiamo un piatto di pasta e basta pranzo ma cerchiamo di regolare anche con l'abbinamento proteico il probabile aumento di glicemia, ovvero degli zuccheri nel sangue che si innescherebbero mangiando un solo piatto di pasta. Questo ci darà la possibilità di mantenere la glicemia stabile e ridurre il grasso addominale e quindi è possibile che cercando di usare anche solo questa soluzione insieme a altre, piano piano insieme all'allenamento riusciremo a ottenere quello che sono gli addominali più definiti rispetto al parametro di partenza. L'eccesso di zuccheri nel sangue quindi non è un problema legato solo agli addominali in evidenza, agli addominali scolpiti, è un problema della nostra società e quindi bisogna cercare di fare attenzione a tutti quegli alimenti che ci possono innescare un aumento della glicemia, quindi come il pane, la pasta, le patate, la pizza, i gelati, i dolci e gli alcolici. Quindi non è che non vanno mangiati ma vanno gestiti all'interno della nostra settimana in relazione a qual è il nostro stato fisico e soprattutto al nostro stile di vita che ci può concedere questo tipo di alimenti più frequentemente o meno. Concludendo con le regole per avere un addominale scolpito e migliorare il nostro stato di grasso addominale la prima cosa da fare è cercare di fare quello che io chiamo abbinamento proteico e cercare di capire quante volte a settimana possiamo inserire i carboidrati ad alto indice glicemico che io chiamo jolly. Seconda regola certamente alleniamo gli addominali in tutte le maniere che vogliamo dal core a crunch a tutti i tipi di crunch ma anche con allenamenti di sovraccarico per aumentare l'ipertrofia del nostro retto dell'addome e non solo ma diamogli anche il giusto recupero. Favorire il consumo di verdura e anche in minima quantità di frutta ma privilegiare il consumo di verdura di stagione. Bere molta acqua e se possibile limitare l'uso di alcolici. Limitare anche il consumo di legumi può essere utile per limitare anche il gonfiore intestinale dato dai processi digestivi di questo alimento. Quando utilizziamo i carboidrati ad alta densità che io chiamo jolly cercare di privilegiare soprattutto quelli integrali e poco raffinati questo sicuramente sarà di aiuto. In ultimo ricordiamoci anche che non dobbiamo farci influenzare dai canoni estetici che vediamo nei profili di alcuni blogger piuttosto che nelle riviste. Ricordiamoci anche che esiste photoshop. Ciao e al prossimo video!